La formula di Taylor e alla x poi avevamo visto seno, coseno, seno iperbolico, coseno iperbolico Andiamo, continuiamo, alcune di queste funzioni ancora non abbiamo fatto la derivata la faremo e poi faremo anche la formula di Merclay quindi facciamo le funzioni immerse della funzione seno e della funzione coseno Allora, in realtà la funzione coseno noi sappiamo che è definita nell'intervallo meno 1,1 e invece l'arcoseno è compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi quindi abbiamo la funzione coseno perché abbiamo invertito la funzione seno nell'intervallo meno pi greco mezzi questa è la funzione coseno Allora, se non mi sbaglio non abbiamo calcolato la derivata Per calcolare la derivata, abbiamo calcolato quella dell'arca tangente sì ma quella dell'arcoseno no, ancora no Per calcolare la derivata basta semplicemente applicare la regola di ripensazione della funzione inversa della funzione inversa f' di x è uguale a 1 fratto la derivata della funzione diretta va beh, insomma, immersa di questa cioè diretta perché io l'ho chiamata diretta perché questa già è immersa del seno cioè la derivata della funzione seno è calcolata nel punto f a meno 1 di x cioè se andiamo a sostituire qui viene 1 fratto la derivata del seno è coseno di a coseno x ok, allora il punto è se a coseno di x lo chiamo α per avere un attimo, diciamo, per facilitarmi un attimo il compito allora io so che seno di α fa x quello che invece vorrei conoscere è coseno di α ma io so che seno quadro più coseno quadro fa 1 quindi seno quadro α più coseno quadro α fa sempre 1 quindi da questo ricavo che questo teoricamente potrebbe essere più o meno radice di 1 meno x quadro perché al posto di seno alfa sostituisco x questo fa x quadro qualche altra parte devo estrarre la radice qui in realtà l'indeterminazione sul segno si scioglie subito perché il segno deve essere positivo e questo lo vedo per tutta una serie di motivi il primo motivo è che siamo all'intervallo l'arcoseno assume valori compresi tra meno π e π nell'intervallo meno π e π il coseno è positivo il secondo motivo è che questa frazione è positiva se solo se questo è positivo ed effettivamente la funzione al coseno è una funzione crescente cioè la funzione derivata deve essere sempre positiva quindi la derivata dell'arcoseno è 1 fratto la radice di 1 meno x quadro la funzione è derivabile dappertutto? no la funzione se vi ricordate è definita nell'intervallo meno 1 1 chiuso ma la derivata esiste solo per x appartenente all'intervallo aperto meno 1 1 infatti quando x vale 1 meno 1 questa quantità perde significato sostanzialmente significa che in quel caso la tangente al grafico viene verticale se vedete il limite della derivata sinistra per x che tende a 1 da sinistra o il limite per x che tende a meno 1 da destra di questa quantità fa in entrambi i casi più infinito vuol dire che la tangente si sta mettendo verticale cosa che è del tutto ragionevole perché la funzione immersa di questa cioè la funzione seno nel corrispondente punto del grafico aveva la tangente orizzontale quindi girando il grafico è chiaro che ciò che è orizzontale diventa verticale quindi questa è la derivata della funzione arcoseno e per quanto riguarda la funzione arcoseno in realtà non necessita di uno sviluppo a parte perché se io scrivo c di x uguale arcoseno di x mi ricordo se vi ricordate bene abbiamo già osservato che questo era pi greco mezzi meno arcoseno di x l'arcoseno cioè era questa funzione qua in meno 1 valeva pi greco e in 1 vale 0 qua valeva pi greco qua valeva pi greco mezzi e qua valeva 0 vabbè un grafico non molto ben riuscito ma insomma ora se fate beh la relazione ci potrebbe stare perché se il l'arcoseno di diciamo se questo lo chiamate alfa voi sapete che seno di alfa fa x ma voi sapete che allora coseno di pi greco mezzi meno alfa pure fa x perché diciamo seno e coseno di archi complementari sono uguali quindi sicuramente il coseno di questa roba fa x il punto è diciamo che non è l'unico arco associato diciamo qua non è associato non è l'unico arco tale che il coseno di quell'arco è uguale al seno del di per esempio anche io potrei avere coseno di meno questo angolo qui pure fa x perché se cambio segno all'argomento il coseno il valore del coseno rimane uguale da dove lo ricavo la costante insomma che qui ci devo mettere pi greco mezzi e meno al coseno beh lo ricavo che dal fatto che comunque nell'intervallo noi cosa sappiamo? sappiamo che nell'intervallo zero pi greco in cui è investito il coseno il coseno è una funzione decrescente quindi anche l'arco coseno deve essere una funzione decrescente qua aveva il valore pi greco qua ha il valore pi greco mezzi qua ha il valore zero allora almeno in questi tre valori se io vado a fare la somma di arco coseno e arco coseno vedete nel punto meno uno questo vale meno pi greco mezzi quello vale pi greco e la somma fa pi greco mezzi nel punto diciamo zero uno fa zero l'altro fa pi greco mezzi la somma fa sempre pi greco mezzi nel punto uno la somma fa ancora pi greco mezzi allora comunque la dimostrazione a questo punto capiamo benissimo che in realtà il valore è sempre questo una dimostrazione formale la posso fare sempre con la regola di direzione della funzione di mezzo uno su g primo di x uguale a uno fratto g a meno uno primo calcolato in g a meno uno di x ok? quindi qua devo sostituire meno uno fratto il seno dell'atto coseno di di vediamo un po' qua ho sbagliato a scrivere qua f di x e qua infatti devo scrivere g di x seno di a ho sbagliato a scrivere lì però diciamo poi il conto che ho fatto è uno meno seno di alco coseno di x e quindi agendo come in precedenza troviamo che se questo lo chiamate alfa se coseno di alfa fa x seno di alfa fa radice di uno meno x quadro quindi qua viene meno uno fratto la radice di uno meno x quadro perchè qua devo scegliere quando vado a calcolare il seno devo scegliere la radice positiva per il semplice fatto che stiamo ad un intervallo zero pi greco e tra zero e pi greco il seno è positivo il meno già avevo portato perchè la derivata di coseno e la meno seno il meno già portato al numeratore quindi verifichiamo anche con la regola di reazione della funzione immersa che effettivamente diciamo la derivata dell'arco coseno è l'opposto della derivata dell'arco coseno a questo punto la somma di arco coseno e di arco coseno a derivata nulla perchè le due derivate sono opposte e quindi deve essere siccome stiamo parlando di un intervallo cioè di un insieme connesso o commesso come lo volete chiamare la funzione deve essere costante infatti noi almeno in tre punti avremmo verificato che la funzione aveva sempre lo stesso valore in realtà la somma di arco coseno e di arco coseno su tutto l'intervallo meno 1 1 ha sempre valore π allora lasciamolo stare per adesso il grafico naturalmente anche quella derivata esiste soltanto nei punti interni dell'intervallo meno 1 adesso scriviamo qui f di x uguale arco seno di x f primo di x uguale 1 fratto la radice di 1 meno x quadro o se preferite 1 meno x quadro alla 1 mezzo adesso lo scopo è alla meno 1 mezzo scusate allora lo scopo è quello di fare delle derivate ulteriori quindi la concià fa la derivata seconda allora la derivata seconda è uguale a meno 1 mezzo 1 meno x quadro alla meno 3 mezzi per la derivata della di meno x quadro perché io ho quindi la derivata di meno x quadro fa meno 2x quindi qua ho 2x quindi è uguale a x fratto 1 meno x quadro alla 3 mezzi se volete andiamo a fare adesso la derivata terza quindi qua abbiamo vabbè descriviamola come x per 1 meno x quadro alla meno 3 mezzi allora qui abbiamo quando derivo la x viene 1 meno x quadro alla meno 3 mezzi quindi più anzi meno 3 mezzi per 1 meno x quadro alla meno 5 mezzi poi devo moltiplicare per la x che c'era prima per la x che c'era prima e per un altro meno 2x che ma la derivata seconda non c'era meno davanti a un mezzo? la derivata seconda la derivata seconda c'era il meno un mezzo il meno poi si cancellava con la derivata di meno x quadro che era meno 2x infatti vedremo quindi la derivata seconda a parte questo deve avere il segno di x infatti vedremo che la derivata seconda è negativa qui perchè la funzione sarà concava è positiva qui perchè la funzione sarà commessa lì ci sarà proprio quando lo faremo vedremo che c'è un minuto di pressi può darsi pure che uno faccia degli errori per carità però diciamo fatemi controllare la derivata terza allora la derivata terza è uguale abbiamo detto è arrivato in un prodotto la derivata x mi rimane questo poi ho meno 3 e mezzi per questo la meno 5 e mezzi per meno 2x per x il meno cancella il meno davanti e mi rimane 2x quadro quindi la derivata terza dovrebbe essere fatta così adesso per adesso fermiamoci qua allora la quindi andiamo a calcolare queste funzioni in 0 allora f di 0 è uguale a 0 chi altro è uguale a 0 ha la derivata seconda in 0 in realtà potrei vedere che se facessi la derivata 4 potrei facilmente vedere che anche la derivata 4 in 0 fa 0 allora lo posso vedere in due modi un modo è guardate che allora qua ho due pezzi quando arrivate a derivare quando derivo questo pezzo mi esce fuori una x sempre per la regola di relazione è una funzione composta che in 0 farà 0 quindi questo pezzo la derivata di questo pezzo si annulla allora in 0 poi qui ho altri due pezzi quando derivo questo non ci sono problemi escono pure anche più x ma quando derivo questo la derivata di 2x quadro farà 4x quindi in tutti i pezzi mi rimarrà meno una x in evidenza quando vado a calcolare in 0 farà 0 e questo è un modo un altro modo più generale è osservare che l'arcoseno è una funzione dispari cioè la funzione arcoseno di meno x è uguale a meno arcoseno di x allora se una funzione dispari è derivata un certo numero di volte in un intorno dell'origine allora tutte le derivate diciamo di diciamo innanzitutto il valore della funzione in 0 deve fare 0 per il semplice fatto se qua ci metto 0 viene arcoseno di 0 uguale a meno arcoseno di 0 allora l'unico valore reale che è uguale all'opposto di se stesso è 0 similmente la derivata di una funzione dispari si può facilmente provare che è una funzione pari e la derivata di una funzione pari può assoluta invece una funzione dispari quindi ogni volta che faccio due derivate la funzione è sempre dispara se partono una funzione dispara allora a questo punto una funzione dispari se definito intorno dello 0 il 0 deve valere 0 quindi la funzione deve fare 0 la derivata seconda deve fare 0 la derivata quarta deve fare 0 a questo punto se voglio scrivere i primi termini della adesso andiamo a vedere invece la derivata prima e la derivata terza allora la derivata prima in 0 quanto fa? fa 1 e la derivata terza quanto fa? la derivata terza questo pezzo fa 0 la derivata terza in 0 pure fa 1 ok? quindi se adesso andiamo a scrivere la diciamo formula di McLaren per la funzione a coseno nell'intorno dell'origine cosa otteniamo? otteniamo a coseno di x quanto fa? vediamo un po' se mai avete eseguito fino a qui allora come si faceva? si deve fare il valore della funzione in 0 che è in 0 possiamo fare più la derivata prima per x fratto 1 vabbè la derivata prima in 0 fa 1 1 per x fa 1 e mi viene x poi derivata seconda in 0 fa 0 quindi il pezzo non c'è poi la derivata terza in 0 fa 1 ok? quindi qua mi viene più x al cubo sesto più o piccolo x alla quarta ok? ok adesso vi insegno un altro modo per controllare se la formula sta parte a bene sta parte a bene e in quest'altro modo poi lo portiamo un po' più avanti e ci determiniamo anche il prossimo coefficiente quale sarà? quello di termini di grado 5 da calcolare per calcolare il coefficiente del termine di grado 5 qua ci dovremmo fare anche la derivata quarta e la derivata quinta quindi vedete che i pezzi si allungano e non poco invece facendo in un altro modo possiamo calcolarci anche il termine di grado 5 senza sostanzialmente fare le derivate adesso vediamo come adesso questo lo lascio indicato diciamo un asso sulla lavagna e calciarlo invece la lavagna precedente perché ormai la derivata l'abbiamo calcolata il grafico ci ha aiutato per quello che ci doveva aiutare allora allora noi cosa sappiamo? noi sappiamo la relazione fondamentale che conosciamo è che arcoseno di seno di x o seno di arcoseno lo potete fare in tutti e due i modi facciamolo così perché noi quella di seno la conosciamo l'abbiamo calcolata bene nella faccia della calcolata e di quella siamo più sicuri questo qua deve fare x allora sostituiamo allora noi diciamo così il seno di x questo qui è vero sicuramente in un intorno dello zero quindi è vero quando x appartiene in realtà a meno pi greco mezzi pi greco mezzi perché questo era l'intervallo nel quale invertivamo la funzione si ci siamo fino a qui poi ottico prima una funzione poi la funzione inversa e torna x adesso io cosa sapevo? di seno di x conoscevo la forma di mi clavio seno di x è uguale a x meno x meno x cubo sesti più o piccolo di x cubo fermiamoci qui per adesso poi so che arcoseno di y usiamo due lettere diverse perché altrimenti non ne usciamo arcoseno di y sempre quando y è vicino a zero quindi y diciamo tende a zero è uguale a diciamo y più qua mettiamo mettiamo il coefficiente va beh y la derivata prima insomma l'avevamo calcolata di quella eravamo abbastanza sicuri poi mettiamo che qua sappiamo anche che la derivata seconda fa zero oppure vabbè senza mettere diciamo dai facciamo così ay più by quadro più cy cubo più a piccolo y e io voglio determinare a, b e c mettiamo in realtà io sto dicendo che se mi fido un pochino dei calcoli che ho fatto b uguale a zero e a uguale a u quello già lo so però visto che non è tanto difficile ricavarsi comunque a e b allora adesso cosa facciamo? andiamo a sostituire la formula di sopra qua dentro e vediamo che succede allora cosa mi viene? ay quanto fa? se al posto di y sostituisco sen x perché questo qua c'era sen x non c'era y quindi mettiamo sen x al posto di y ma non usiamo sen x usiamo questa formula qua quindi mi viene ax meno ax cubo sesti e il resto ero piccolo di x cubo anche se lo moltiplico perché la costante a rimane di ordine superiore al x andiamo invece andiamo invece a fare by y quadro by y quadro è x meno x cubo sesti più piccolo di x cubo tutto al quadrato ricordate che stiamo sempre vicino a zero quindi quanto viene? allora come si fa il cubo di un trinomio? si fanno i cubi cioè il quadrato di un b di un trinomio si fanno i quadrati di singoli pezzi quindi il più quadrato sarebbe x quadro poi questo il quadrato di questo è di ordine 6 ok il quadrato di questo è di ordine ancora super? no il quadrato di questo è un piccolo di x6 3 più 3 fa 6 non si fa 3 per 3 cioè il quadrato di un quadrato di un trinomio poi ci sono i doppi prodotti allora vediamo il doppio prodotto questo qua di che ordine è? 4 devo fare questo per questo per 2 quindi viene meno x alla quarta terzi più o piccolo di x tutti gli altri termini se li andate a fare sono di ordine superiore al 4 ok? in verità allora in verità siccome questo qua lo devo sommare a questo questo lo devo sommare a questo e allora qua c'è un piccolo di x alla 3 quindi ci potrebbe stare benissimo un termine di ordine 4 quindi è inutile tenersi questo termine visto che lo dobbiamo sommare a questo che c'è un piccolo di x alla 3 quindi qua in realtà scrivo x quadro scusate ci manca la b ci manca la b davanti quindi bx quadro meno questo quindi bx quadro più o piccolo di x alla 3 di x alla 3 l'ultimo termine è c y cubo cioè c che moltiplica x meno x cubo sesti più o piccolo di x cubo tutto al cubo ora qui la situazione se possibile è ancora più semplice perché quando vado a fare questo cubo vengono fuori un sacco di termini ma il cubo di questo viene di grado di ordine 3 tutti gli altri termini doppi prodotti di c'è sono tutti di ordine super? quindi qua possiamo scrivere che viene cx cubo più o piccolo di x cubo adesso facciamo la somma allora io ho che arcosè di seno di x è uguale facciamo la somma poi mi viene ax poi mi viene più bx quadro i termini di ordine 2 mi viene da qua poi i termini di ordine invece ne sono due uno qua e uno da qua quindi mi fa più c meno a sesti per x cubo tutti gli altri termini sono di ordine super? superiore finito adesso tutto ciò noi sapevamo che doveva fare x allora qual è l'unica possibilità? se supponiamo e così è che i termini diciamo cioè qua c'è il termine di ordine 1 qua c'è il termine di ordine 1 devono avere lo stesso coefficiente è come se fosse il principio di identità dei coni nomi ma effettivamente è così è allora che cosa vuol dire? uguali ugualiando queste due quantità scopriamo che a quanto deve fare? qua c'è x qua c'è ax se devono essere uguali deve fare u b quanto deve fare? qua c'è x quadro qua non c'è? b deve fare? zero allora questo termine pure deve fare zero perchè qua x quadro c'è qua x quadro non non c'è quindi c deve fare a sesti ma era 1 e quindi c deve fare un sesti e basta poi il resto il resto può essere perchè qua poi i debiti di ordine super a 3 mi fanno zero e qua un piccolo scopro nessuno nega che poteva fare zero c'erano dei pezzi di ordine super a 3 magari si cancellavano molti quanti venivano a zero ah sicuramente sicuramente deve essere uguali a x chiaro? ok quindi abbiamo scoperto che i coefficienti sono esattamente quelli che avevamo calcolato in prece in precedenza se adesso voglio rifare la stessa cosa ma voglio arrivare fino all'ordine 5 io cosa faccio? se voglio calcolarmi il termine successivo successivo se mi voglio raccogliare la costante del termine successivo beh è inutile che riscrivo tutti i termini semplifico un po' se ce ne metto solo quelli che ci sono no? questo ci sta questo ci sta e i coefficienti già li abbiamo calcolati fanno 1 e 1 sesto il termine successivo sarà quello di grado 5 perchè abbiamo visto quelli di grado pari venivano a zero ormai ci siamo convinti abbiamo fatto i due modi e abbiamo verificato che comunque posso usare questa formula adesso vado naturalmente però cosa devo fare? la formula di partenza se voglio trovarmi con i conti fino al grado 5 la devo specificare fino a grado 5 o no? la formula del seno fino a grado 5 è fino all'ordine 5 per meglio dire è porta questo x alla 5 su 5 fattoriali e poi posso anche lì scrivere un piccolo di x alla 6 perchè so che il termine successivo è di ordine 7 ok allora adesso riscrivo la mia andiamo a scrivere arcoseno di seno di x allora è uguale a al posto di y ci devo mettere seno di x ma al posto di seno di x ci metto quella formula cioè comincio a scrivere x meno x più po' sesto più x alla 5 su 120 e poi scrivo più piccolo di x alla 5 lo scrivo qua in fondo perchè ha più piccolo di x alla 6 lo scrivo qua in fondo perchè lo tratto come bidona spiega tutto ogni volta che ci troviamo qualcosa di ordine di superiore da 6 lo vado a mettere da 2 poi devo fare più più un sesto e devo ripetere quella formula lì e devo fare tutto al cubo qua devo fare x meno x cubo sesto più x alla 5 su 120 più piccolo di x alla 6 tutto al cubo poi poi devo fare devo fare scusate qua era meno un sesto no no più un sesto poi devo fare più lambda volte x meno x cubo sesto più x alla 5 su 120 più piccolo di x alla 6 alla 5 il conto vedremo che sarà molto più semplice del previsto perchè? qui l'unico termine di grado 5 che viene è x alla 5 quindi qua sotto è lambda x alla 5 tutti gli altri termini il termine di grado più basso che viene nella quarta potenza di questo per una potenza di questo viene già di grado? 7 ok? di ordine superiore poi andiamo invece a vedere qui qui mi viene un sesto x cubo poi qua che cosa ho? posso fare il quadrato di questo per questo 3 volte il quadrato di questo per questo ok? fate il cubo solo di questo intanto quando fate gli altri pezzi vi ne verranno tutti i termini di olio superiore al 7 quando faccio il triplo quindi qua fa meno il triplo di 1 più 3 fa scusate il quadrato di questo per questo fa x alla 5 fa meno x alla 5 dodicesimi perché dodicesimi? perché devo fare il quadrato di questo per questo per 3 quindi viene meno x alla 5 mezzi per un sesto dicesimi tutti gli altri termini se ci fate caso questo vengono tutti vengono tutti di ordine superiore a 6 cioè vengono da ordine al 7 in più quindi rispiliamo il tutto allora allora come vedete io mi ricordo a questo punto che questo deve fare x perchè la cosina di seno di x fa x e vedete qua ho x e qua ho x e mi trovo poi meno x al cubo sesto e più x al cubo sesto e più x al cubo sesto e più x al cubo sesto se ne va a questo punto mi trovo che altri termini di grado 5 se ne devono andare quindi lambda deve essere uguale a 1 dodicesimo meno 1 centoventesimo e in centoventesimi qui sono 10 meno 1 9 centoventesimi se ho fatto bene i conti lambda dovrebbe fare 3 quarantesimi quindi se è vero quello che ho calcolato qui mi deve venire 3 quarantesimi quindi come vedete ovviamente ovviamente non è la serie cioè scusate non è la formula del seno iperbolico qui poteva sembrare che era quello del seno iperbolico qua c'era y cubo sesti ma se fosse stato quello del seno iperbolico qua sarebbe venuto più y5 su 120 non è così viene più 3 quarantesimi infatti è un'altra cosa vogliamo controllare se abbiamo fatto bene perchè abbiamo fatto un po' di potenza può essere pure che ci siamo sbagliati in qualche modo se però adesso vado a fare la derivata quarta la derivata quinta e mi trovo la calcolo in 0 quanto deve fare la derivata quinta in 0? siccome la derivata quinta si deve dividere il 120 la derivata quinta in 0 dovrebbe fare 9 ok? ora andiamo a vedere fino alla derivata terza l'avevamo fatta sembrava corretta ma anche qua non eravamo sicuri fino a un certo punto facciamo la derivata quarta allora qua ne abbiamo intanto qua semplifichiamo il 2 e il 2 qua me ne rimangono 3 3x quadro per questa roba qui allora la derivata quarta calcolata di x quando derivo questo mi viene è meno 3x 1 meno x quadro perché sarebbe meno 3 mezzi per 1 meno x quadro alla meno 5 mezzi per la derivata di meno x quadro che fa meno 2x quindi più meno per meno fa più poi adesso quando derivo questo qui questo è un prodotto quindi derivo il primo termine la derivata di 3x quadro fa 6x l'altro termine è uguale 6x e 3x fa 9x e poi c'è la derivata dell'ultimo termine che è più 15x cubo 1 meno x quadro alla meno 7 mezzi ok? adesso questa qui fa 0 infatti la derivata quarta deve fare 0 andiamo a vedere la derivata quinta la derivata quinta adesso quando qui derivo la x ha solo diciamo a questo termine 9 per 1 meno x quadro alla meno 5 mezzi più altri termini gli altri termini quindi quando vengono quando derivo questo che mi porta fuori altre x oppure quando derivo questo o questo ma quando derivo questo c'è x cubo e la derivata mi lascia almeno un x quadro fuori la prima quando derivo questo me ne vengono ulteriormente altre di x quindi tutti gli altri termini che andiamo a considerare in 0 verranno tutti 0 quindi la derivata quinta in 0 fa 9 così come avevamo già calcolato quindi vedete che in questo modo diciamo è piuttosto conveniente solo che qual è la differenza rispetto al segno? rispetto al segno la differenza è che qui potevamo intuire qual è la formula generale cioè una volta che abbiamo capito le derivate erano facili da fare anche le derivate di ogni ordine e quindi potevamo sapere qual è il pezzo diciamo il termine di grado 7 quello di grado 9 quello di grado 11 per quanto riguarda invece l'arcoseno beh le derivate si complicano e a questo punto è un po' più difficile ricavare la formula la viene generale si può pure fare però non lo voglio fare sicuramente non adesso ok accontentiamoci vabbè naturalmente questa vale per x vicino a 0 se la volete chiamare la variabile la chiamata x avete ottenuto la formula di McClaren dell'arcoseno quindi se andiamo a scrivere adesso la nostra formula di McClaren dell'arcoseno questa è abbiamo detto x più x cubo sesti più 3 quarantesimi x alla quinta e poi già sappiamo che il termine successivo è di ordine superior a 6 qui insomma non è una cattiva forma a noi diciamo per quello che faremo in analisi 1 per gli esercizi che faremo per il compito quasi sempre le formule ci serviranno fino all'ordine 3 massimo più spesso anche fino all'ordine 3 no 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 la somma deve fare 0 se ne deve andare meno un dodicesimo fa meno 3 quarantesimi che più 3 quarantesimi fa 0 siccome è uguale a 0 devi portarlo all'altra parte chiaro? ok bene e l'arco cos'è? quanto fa? devo rifare tutto l'ambaradano? quanto fa? quindi vedete che l'arco coseno mentre seno è dispari coseno è pari l'arco coseno è dispari e l'arco coseno non è né pari né dispari però è meno di una costante se io lo abbassassi di una costante sarebbe una funzione di dispari pure lui se vi ricordate il grafico lo capite se lo abbasso e lo faccio passare per 0 diventa una funzione di dispari pure lui diventa il meno arco coseno quindi semplicemente basta ricordarsi che l'arco coseno è y mezzi meno arco coseno non so se riesco a farlo è chiaro? bene ecco invece andiamo a fare questa se volete la chiamate di nuovo f oppure la chiamate g come abbiamo fatto qui andiamo a fare la funzione arco tangente stavolta la chiamo f di nuovo perchè mi trovo meglio a chiamare la funzione che consiglia di chiamarle f l'arco tangente pure lei è una funzione che definisce tutto a f è una funzione crescente e di questa funzione avevamo già calcolato la derivata l'avevamo già fatta è una funzione crescente ha due asintoti orizzontali cioè ha due limiti per x che tende a più infinito e meno infinito questi limiti costanti sono pi greco mezzi per x che tende a più infinito tutto questo deriva dal fatto che l'inversa della tangente nell'intervallo meno pi greco mezzi e pi greco mezzi la derivata di questa l'avevamo già calcolata quanto faceva? 1 fratto 1 1 fratto 1 più x quadro la prima cosa da fare come abbiamo fatto per arcosena e arcosena l'abbiamo fatto anche per arcosena e lo ripetiamo un ulteriore volte perchè le cose ripetute aiutano è che confrontare la derivata con le caratteristiche del grafio per vedere se sono coerenti si che sono coerenti perchè in 0 vuol dire che il coefficiente angolare della letta tangente fa 1 cioè la tangente è a 45 gradi più o meno ci troviamo era a 45 gradi prima quando lo ribaltate rimane a 45 gradi ribaltate rispetto all'asse del primo e terzo alla bisettrice del primo e terzo quadrato dopodichè vedete che questa derivata è sempre positiva infatti la funzione è sempre crescente ma scema quando x diventa grande in valore assurdo cioè infatti il coefficiente angolare diventa sempre più piccolo quindi vanno abbastanza d'accordo adesso andiamo a vedere la derivata seconda questo lo posso scrivere come 1 più x quadro alla meno 1 in verità io posso farmi derivata seconda, derivata verso eccetera ma la derivata di questa qui scusate, lo sviluppo di questa qui di meclare 1 fratto 1 più x quadro lo sappiamo fare o no? se vi ricordate questo noi lo sapevamo fare anche senza alcun tipo di diciamo conoscenza di analisi perché noi abbiamo detto che per virtù dei prodotti notevoli questo è uguale a 1 meno x quadro più x alla quarta meno x alla sesta più per esempio x all'ottava più o piccolo di x alla 9 più oppure oppure se preferite in generale posso anche scrivere somma per n che va da 0 per k che va da 0 a n di meno 1 alla k x alla 2k più o piccolo di x alla 2n quindi vedete che 1 k uguale a 0 meno x quadro più x alla quarta e così beh, allora l'arco tangente a cosa sarà uguale? x meno x cubo terzi più x alla quinta quinti meno x alla settima settimi più x alla nona noni se vogliamo avere la stessa più o piccolo di x alla 2 o più in generale qua posso scrivere somma per k che vado a 0 a n di meno 1 alla k x alla 2k più 1 fratto 2k più 1 più o piccolo di x alla 2n perché questo? qui noi non abbiamo diciamo nella prossima settimana ancora non faremo l'integrale quindi semplicemente noi cosa sappiamo? chiamate questa l'avevamo chiamata f chiamate questa g ok? allora voi sapete che se fate la derivata k più 1esima della f g alla derivata di f calcolata in 0 questa è la derivata k esima della f calcolata in 0 allora io so che il termine di ordine k più 1 di questo quanto faceva? faceva la derivata k più 1esima in 0 per x alla k più 1 fratto k più 1 fatto? fattoriale però il termine k esima di questo faceva g k 0 per x alla k fratto k fattoriale questo era il termine di ordine k della g e questo è il termine di ordine il termine di ordine k più 1 della f allora se sostituisco l'uguaglianza qua ci metto gk di 0 ma gk di 0 per x alla k fratto k fattoriale è il termine di ordine k della g per esempio di ordine 4 della g allora per arrivare al termine di ordine k più 1 cosa devo fare? devo semplicemente moltiplicare per k più 1 diciamo moltiplicare per x e dividere per k più 1 infatti il termine di ordine 5 lo prendo da questo moltiplico per x e divido per c qua moltiplico per x e divido per 3 qua moltiplico per x e divido per 7 qua moltiplico per x e divido per 9 è banale che c'è questa relazione viene dal fatto che la derivata k finesima della f è uguale a la derivata k finesima della f confrontando confrontandoli si perviene a questo qua e l'altro qua cioè se questo fa meno x quadro qua ci deve sta meno scuolo terzo se qua sto più x alla quarta qua ci deve sta più x alla quinta e così è chiaro? quindi è inutile a quel punto calcolarmi tutte le derivate e io non le ho calcolate le derivate perché io avrei dovuto calcolare le derivate in un punto generico x poi c'erano i prodotti che uscivano tanti pezzi ma io in realtà come l'ho fatto questo qui? questo qui lo posso fare in due modi o mi ricordo i prodotti notevoli e qui non ho fatto nessuna analisi oppure mi ricordo beh che 1 fratto 1 più x è uguale a 1 meno x più x quadro meno x cubo eccetera eccetera più o piccolo di x alla n per esempio allora che cosa faccio poi alla fine? al posto di x ci metto x quadro qua mi verrà 1 meno x quadro di x alla quarta eccetera eccetera poi alla fine verrà o piccolo di x alla 2n più 1 2n più 1 perché quello andrà di 2 in 2 l'ultimo sarà x alla 2n e quello successivo deve essere di ordine 2n più 2 quindi questa formula è figlia di questa semplicemente è stata fatta una sostituzione sostituzione ok bene quindi abbiamo ricavato la formula di diciamo mclaurin dell'arco tangente vi faccio osservare che se io faccio il limite per n che tende a infilio di 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo più meno 1 alla n fratto 2n più 1 cioè sarebbe la somma di quei primi termini fino a n e poi mando a n a infinito in realtà se io riuscisse a dimostrare si può fare ma non non si fa direttamente così si fa quando passaremo alle serie se io riuscisse a dimostrare che il resto nello sviluppo vedere l'arco tangente quando calcolo questo sviluppo tra 0 e 1 diciamo nel punto 0 poi applico il punto lo sviluppo e ci metto x uguale a 1 sostanzialmente sempre nella forma di mclaurin quando apposto di x metto 1 e vado a calcolare il resto in forma di Lagrange dovrei dimostrare che quel resto tende a 0 se dimostro che quel resto tende a 0 allora a quel punto l'arco tangente diciamo tutto questo limite quanto fa? farà l'arco tangente di 1 ma l'arco tangente di 1 quanto fa? di greco? 4 quindi come vedete è un modo per approssimare è un modo che non è molto buono ma lo dico subito un modo diciamo di calcolare il pi greco con sempre migliore approssimazione è prendere i numeri dispari fare i reciproci e sommarli con i termini di segno al te lo voglio fare 1 meno un terzo poi più un gui meno un sei piano piano questa somma si avvicina a pi greco 4 quindi teoricamente è un modo di calcolare il pi greco poi è un modo che fa schifo ma questo è un altro pari di parti di mani vedremo a sto tempo che sarà vera questa formula e sarà pure vero che fa schifo insomma cioè nel senso che la convergenza è molto lenta ok quindi abbiamo fatto arco seno arco coseno arco tangente vediamo un po' vabbè 5 minuti basso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti